Aveva in casa diverse dosi di cocaina pronte allo spaccio e tutto l'occorrente per prepararle, il ventenne fanese arrestato venerdì scorso dai carabinieri di Fano. Il nucleo radiomobile operativo aveva avviato un'indagine nei suoi confronti dopo l'arresto di una coppia sorpresa a prelevare cocaina in un campo di girasoli. Infatti dal mese di agosto i militari hanno iniziato a documentare e raccogliere numerosi elementi a carico del giovane, in particolare incontri e frequentazioni che hanno portato la procura della Repubblica di Pesaro ad emettere un decreto di perquisizione. Poi, una volta rintracciato a bordo di un'auto in zona Lido, il ventenne è stato fermato e una volta compreso il motivo del controllo ha estratto spontaneamente dagli slip una pochette in stoffa con all'interno due dosi di cocaina. Invece, durante la perquisizione in casa sul frigorifero è stata rinvenuta una scatola contenente un bilancino di precisione per la pesatura dello stupefacente e un'ulteriore dose di cocaina. Altri 10 grammi di droga sono stati trovati all'interno di un pensile della cucina, mentre sul tavolo c'erano i ritagli in cellofan utili al confezionamento. Da ultimo, nel comodino della camera da letto è stato trovato un cospicuo quantitativo di marijuana. Il giovane, dichiarato subito in arresto, è stato processato per direttissima, dovrà scontare un anno di reclusione e pagare 2000 euro di multa. Inoltre, ogni giorno dovrà presentarsi alla polizia giudiziaria, intanto in questi giorni verranno eseguite le misurazioni dello stupefacente per verificarne la qualità e la quantità.